Basti pensare che sono ormai dieci anni che nel Regno Unito sono vietate le retrocessioni. Se non sai di cosa sto parlando te lo spiego in un attimo. I produttori di fondi comuni di investimento riconoscono una parte delle commissioni pagate dai clienti ai distributori, ovvero le banche. E queste ultime riconoscono una provvigione al consulente che ha consigliato quel determinato prodotto.